La vendemmia 1, 2, 3 Ha una nota fuori che vuol dire che praticamente non inizia a imbattere ma in levare sul terzo movimento e voi ascolterete 1, 2, 3 poi due schiocchi di dita per indicare i primi due tempi vuoti e poi al terzo inizierete 1, 2, 3 Sol, Do Perché questo? Perché l'accento deve andare sul Do e non sul Sol Ti ricordi? Sol, Do Benissimo Un'altra particolarità di questo studio è per la prima volta l'uso del dito anulare della mano destra Dobbiamo usare l'anulare anche qui Perciò attenzione all'uso di questo anulare Va bene? Abbiamo provato, non ci dovrebbero essere problemi Iniziamo Perciò attenzione all'inizio di questa la chitarra Ok 1, 2, 3 1, 2 Perciò attenzione all'uso di questo anulare anche qui L'ultima nota L'ultima nota Hai iniziato perfettamente Però era proprio così che devi fare 1, 2, 3 1, 2 1, 2 Bravissima, molto bene Ed ora proviamo a farlo con la base Grazie a tutti Bravissima, molto bene Cari amici abbiamo terminato la nostra 54esima lezione Se volete continuare a seguirci Iscrivetevi al mio canale YouTube E cliccate la campanella Ciao Ciao L'ultima nota L'ultima nota Rifacciamolo No Dai Non posso? Non puoi cancellare quella nota No No Pronto Non ci avviciniamo No 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 Grazie.